Buonasera a tutti, la notizia che speravamo di non dare mai purtroppo è arrivata in questo 30 marzo 2021. YouTube ha cancellato definitivamente il canale storico di BioBlu, esistente da 14 anni, con un patrimonio di più di 2000 interviste. Interviste a scienziati, ricercatori, professori, politologi, giornalisti, interviste che erano viste da tantissime persone. Gli iscritti al canale erano mezzo milione, mezzo milione di persone che seguiva il canale BioBlu su YouTube. Numeri che testimoniano una realtà consolidata grazie anche al sostegno delle tantissime persone che avevano deciso di seguirla. La notizia ci è arrivata oggi con una semplice email inviata da YouTube, all'interno della quale la piattaforma video spiega che la causa di questa cancellazione improvvisa sarebbe la presenza di un'intervista, di un video, di, pensate, due anni fa, realizzato due anni fa, un'intervista al panafricanista, esperto di panafricanismo, Conare. E ad esprimere vicinanza alla testata giornalistica fra i primi è stato il giornalista senatore Gianluigi Paragone che non ha assolutamente utilizzato parole gentili nei confronti della multinazionale associandola, definendola ad una sorta di padrone feudale ed ha anche annunciato in diretta proprio sui nostri studi una interrogazione parlamentare. Allora ascoltatemi bene, 525.000 iscritti, almeno 2.000 video, 200 milioni di visualizzazioni, video maturate in ben 14 anni di sforzi, di sudore, di sacrifici, di impegno. Questo era il canale Bio Blu di Claudio Messora. Era perché la mannaia di Google oggi, poche un'oretta fa circa, perché la mannaia di Google ha ghigliottinato Claudio Messora, ha ghigliottinato Bio Blu, ha ghigliottinato un pezzo di una libertà fondamentale, quella libertà che nella Costituzione americana è sacra, dove puoi dire qualsiasi cosa ma nessuno ti toglierà mai la parola, questi signori, questi padroni globali, nuovi, queste multinazionali, questo padrone feudale viene in Italia e ha la possibilità di chiudere un canale. Perché? Perché non gli piace. Perché non gli piace ciò che questo canale liberamente può dire. Guardate che è grave, è grave perché inizia ad essere una pericolosa mannaia, un pericoloso tentativo di tappare la bocca a chi vuole raccontare altro. E si può raccontare altro, anzi si deve raccontare altro. E alla fine dell'anno scorso, del 2020, vi abbiamo fatto delle promesse che abbiamo intenzione di mantenere e realizzare, ma serve il vostro sostegno, il vostro aiuto più che mai adesso in questo momento buio di censura. Fra queste promesse la più importante c'era quella di arrivare in tutte le case dei cittadini italiani da nord a sud con il digitale terrestre, con un canale nazionale unico, in maniera da rispondere proprio a questa censura da parte dei social network. E adesso abbiamo la possibilità di acquisire un canale nazionale sul digitale terrestre con una diffusione del segnale che essendo appunto di portata nazionale sarebbe anche più stabile e capillare. Ma per farlo serve ovviamente il vostro sostegno. Se volete far sì che Davvero TV e quindi anche BioBlu riesca ad entrare nelle case di tutti gli italiani, che tutti gli italiani possano seguire un'informazione libera e indipendente, perché al momento, lo sapete, siamo presenti solo in cinque regioni e talvolta anche con delle difficoltà di segnale, ecco, sostenete l'informazione di BioBlu, sostenete questo progetto. È il momento di serrare i ranghi, come dicevamo in uno spot, è veramente arrivato il momento. Sostenete questo progetto grandioso di BioBlu, un progetto anche unico nel suo genere, nel panorama dell'informazione, di arrivare con la TV dei cittadini in tutte le case degli italiani. Allora andate su go.bioblu.com.dona e fate parte di questo grandissimo progetto.